Cari amici, buona giornata. Chiediamo al Signore di essere discepoli che lo amano e quindi osservano la sua parola e la mettono in pratica. Il testo di oggi è sempre dal Vangelo di San Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Perché mi invocate Signore, Signore e non fate quello che vi dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, ti mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che costruendo una casa ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla loccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò e la distruzione di quella casa fu grande. Nella prima parte del suo discorso Gesù ha esposto in maniera forte il comandamento dell'amore mostrando la novità del suo insegnamento ma ora egli aggiunge un insegnamento molto insistente e particolarizzato che invita i discepoli a diffidare dal seguire falsi maestri e le loro rispettive dottrine. E questo perché vuole invitare il discepolo a prendere una decisione scegliendo con chiarezza quale via vuole seguire. Ecco perché ascoltiamo anche oggi dei detti di Gesù che si caratterizzano come un insegnamento forte contro i falsi maestri. Le immagini usate sono molto eloquenti e anche semplici nell'applicazione. La prima è quella dell'albero. È evidente che un albero si vede dai frutti. Se produce dei frutti buoni che sono ottimi da mangiare allora è un albero buono. Se invece produce frutti che non si possono mangiare è un albero cattivo. D'altra parte dice Gesù riprendendo i due frutti più stimati in Palestina fichi e uva non si possono prendere i fichi dagli spini né si può vendemmiare l'uva da un rovo. Questa immagine indica chiaramente che il maestro buono è quello che produce frutti buoni. La seconda immagine fa diretto riferimento all'insegnamento e cioè fa riferimento alla parola. La parola buona, la parola che fa bene, rivela un cuore buono. Mentre il cuore cattivo non è capace di produrre parole buone, insegnamenti che portano al bene. E quindi ecco perché Gesù insiste molto sul purificare il cuore, renderlo trasparente, sincero, al limite cuore contrito ma non attaccato dal pericolo della ipocrisia. Ecco questa è la prima parte delle immagini usate per spingere il discepolo a riconoscere il maestro buono da quello cattivo. E conclude poi Gesù il suo insegnamento dicendo attenzione voi che venite a me, che siete dunque i miei discepoli, che volete ascoltare la mia parola, nel momento in cui dovete giudicare i maestri, non soltanto dalle parole ma dai frutti che producono, state attenti anche al vostro atteggiamento, a non essere persone che si accontentano di ascoltare ma non mettono in pratica. Io sono il maestro, dunque ho l'autorità di insegnante, ho l'autorità di colui che può mostrarvi la via che porta al bene, dunque la mia parola va messa in pratica. Se la ascoltate e non la mettete in pratica, ecco l'immagine ultima con cui Gesù chiude il suo discorso, siete simili a uno che costruisce la casa sulla terra e quando arriva l'alluvione la casa crolla. Diversamente se voi la mettete in pratica siete come chi costruisce la casa mettendo le fondamenta profonde sulla roccia che resiste anche l'alluvione. Dunque il Signore Gesù invita i discepoli a questo atteggiamento molto deciso nel momento in cui vogliono vivere il battesimo che hanno ricevuto e vogliono vivere da discepoli. Il primo è quello di usare la testa, di fare attenzione perché sono in giro falsi maestri e noi lo sappiamo anche nella nostra epoca, la manipolazione delle idee, gli influencer che vogliono mostrare vie diverse dal Vangelo sono ormai all'ordine del giorno e il Signore non ci invita alla paura, non ci invita neanche a chiuderci ma ci invita, contrariamente a quello che uno qualche volta pensa, a bere gli occhi bene aperti e guardare i frutti. È vero che la nostra società sta camminando in maniera più solidale, che il discorso sull'affettività e l'amore sta producendo persone più contente, famiglie più stabili, che il discorso dell'economia sta seguendo regole di solidarietà per cui il benessere si diffonde di più, oppure invece percorriamo altre strade, guardiamo certe persone che sono famose ma che esito ha avuto la loro vita, che frutti hanno prodotto, cioè siamo più critici, diventiamo più esperti e onestamente diamo un nome a tanti comportamenti, a tante situazioni, non subiamo soltanto il fascino di certi maestri, perché Gesù da questo punto di vista ha una pretesa, fuori da lui, fuori dall'albero che ha le radici in lui, noi possiamo cogliere solo spine e rovi. Gesù è molto forte in questa prospettiva, la efficacia e la bontà della vita trovano radice solo lì dove affondano nel cuore e nell'insegnamento di Gesù, sta a noi decidere e poi verificare anche nella nostra vita che cosa porta bene, che cosa è che realmente ci ha fatto del bene. Infine l'insegnamento concreto, ricordiamo qui il famoso detto la strada dell'inferno e la stricata delle buone intenzioni. Tante volte uno può limitarsi ad ascoltare, non traduce mai in decisione pratica, concreta, ciò che ha ascoltato. Ecco, questo non è sufficiente. Quando arriva poi una crisi, se uno non ha mai fatto una decisione per il Signore, non ha mai preso una scelta in obbedienza al Vangelo, non avrà fatto esperienza della bontà di essere discepolo del Signore Gesù. Avrà sempre relegato il rapporto con Gesù a delle idee, delle buone idee, ma mai a esperienza concreta di scelta fatta per il Signore. Oggi il Signore ci domanda se vuoi avere una fede che regge all'alluvione, che regge alla prova, devi tradurre in concreto quello che ascolti, devi mettere nella vita quello che è il Vangelo. Anche scelte semplici, piccole, fatte per il Signore Gesù. Anche oggi dovremmo dire oggi Signore decido per te questo e lo faccio per te, per obbedire alla tua parola. Questo ci rende persone che hanno radici, che hanno fondamenta sicure. Buona giornata.